Buongiorno Oh, buongiorno a lei Signora, un attimo, finisco di servire la signora e poi serva a lei Vi faccio le cotolette Belle tenere, mi raccomando Signora Rosaria, la carne che lei prende di solito è finita Gliela posso dare qualcos'altro? Non si preoccupi, qual è il problema? Sarà per la prossima volta, arrivederci Signora Maria Io l'ho servita Racket delle estorsioni Francesco Loporto ha dichiarato alla magistratura è ora di pagare il pizzo da piedi di esami Adesso passiamo... Minchia Si mesero tutto a cantare Almeno è diventato moda farlo cantante E tu sai che fanno i cantanti? Amolini, Saru Susano Arrivederci Susano Vida Amici Aruno, continuiamo a seguirvi Ok Romano Che c'è Rosalina? Che c'è Rosalina? Che c'è Rosalina? Non ti preoccupare La faccio io la spesa stasera Mamma Ciao 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Poi, che c'è il saluto? Chi è da preoccupare? Ricordatelo, tra di noi un famo non ci hanno annunciato mai chi non è con me è concio di noi e se l'hanno a scrivere bene un po' a uscire via che qui comando io Amonitano, un famo meno E adesso mangi Papà, papà Dove sei? Buonasera Don Michele Si accomodi E quando tu? Mi dica Don Michele Mi dica Don Michele Mi dica Don Michele Mi dica Don Michele Ma chi sta dicendo Don Michele Mi ha levato la chiamata per l'azione Mi hanno fatto troppo sgrusci Ma chi dice? Troppo sgrusci Ma chi dice? Troppo sgrusci Buonasera Don Michele Buonasera Don Michele Buonasera Buonasera Ma cosa state prendendo Don Michele? Alla vostra saluta Ma non to' un minuto, Don Michele Non to' un minuto, Don Michele Non to' un minuto, sai che parola con te Buonasera 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 Però Bisogna Non c'è nulla. Inghia c'è questa vista. Quell'è tua archa? Lo sapete che non vi vuole bene e non vi lascerà mai.